via via madonna santissima via per favore via Filippo fuori correte 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 madonna santissima guarda come si muove ma è rimasto qualcuno dentro fuori via vieni qui a dove sono io fuori di qui ma siete dei pazzi ancora a rimanere fuori 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 madonna santissima sta cammino tutto qua fuori via 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 madonna che sta venendo adesso ragazzi patrice vieni qua 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 fuori via via fatte sbomberare dalla zona della banca ragazzi sbomberate dalla zona della banca